Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Un triste lutto ha colpito la Rai nelle ultime ore, poiché una stimata giornalista e conduttrice è prematuramente scomparsa all'età di soli 67 anni. Una professionista originaria di Padova ha sempre abbracciato con passione i suoi ideali, cercando costantemente di diffonderli attraverso la sua carriera. La sua perdita ha gettato un profondo velo di tristezza sul mondo del giornalismo. Maria Luisa Vincenzoni ha dedicato ben 40 anni della sua vita alla Rai, contribuendo con vari incarichi e ruoli di rilievo. Ha iniziato a Venezia, conducendo il telegiornale regionale, e ha proseguito a Milano nella redazione di Enzo Biagi, dove si è distinta come inviata nella striscia quotidiana di Rai 1. A Roma, ha svolto il ruolo di redattrice economica, conduttrice del Tg della Notte e delle edizioni delle ore 14. Inoltre, ha brillato come conduttrice della rubrica Insieme, dedicata ai diritti dei consumatori. Nel corso di quest'anno, aveva ricevuto il prestigioso premio alla carriera dall'Ordine dei giornalisti del Veneto. La sua eredità sarà per sempre ricordata e apprezzata. Mandiamo tutti una preghiera o un messaggio di vicinanza alla sua famiglia per questa triste perdita.